Il Comitato Territoriale di Modena ha avuto una grande occasione, una grande disponibilità da parte di Giulio Velasco per formare i suoi allenatori, gli allenatori di tutta l'Emilia e Romagna, l'abbiamo colta e abbiamo avuto, grazie al Comune di Modena, l'opportunità di realizzare questo evento nel Tempio del Vole e al Palapanini. Oggi è una grande festa, una grande giornata di cultura, di sport, di formazione. Giulio ci ha regalato questo momento. Noi, non lo posso dire adesso con orgoglio, abbiamo costruito un bel contorno per accoglierlo. Abbiamo un mare di persone che stanno popolando il nostro palazzetto e il Giulio mai banale, sempre puntuale, preciso, veramente una ricchezza straordinaria sentirlo. Giornata di grande formazione è un momento importante per la nostra città. Abbiamo un'area dedicata ai giovani che sono entrati gratuitamente con le passe giovani e sono gli atleti delle nostre società nati dal 99 al 2003 e gli alunni del liceo sportivo Tassoni di Modena. Oltre a questi abbiamo chiaramente i nostri allenatori, tante autorità e tante persone che della Pallavolo hanno fatto la loro professione e tanti campioni della Pallavolo e abbiamo anche tanti appassionati provenienti da altri ambiti sportivi piuttosto che cittadini interessati a partecipare a questo evento. Il motto mi diverte seriamente nasce dalla bocca di Giulio Velasco. Io ho sentito per la prima volta questo motto in un'intervista, che ha fatto Giulio e parlava di Vigor Bomolento, di Bovo, un mio amico, un nostro amico, un amico della Pallavolo. Stavamo raccogliendo delle testimonianze per aiutare la moglie Federica Lisi a scrivere un libro. Giulio ha definito Bovo uno che si divertiva seriamente. Mi è rimasta molto nel cuore questa definizione. L'ho proposta al Consiglio e agli amici che stanno conducendo questo comitato in questo momento. Ho detto perché non ne facciamo il nostro motto, perché racchiude perfettamente quello che noi vogliamo fare in questo comitato. E' trasmettere una cultura ai nostri ragazzi che li porti a potersi divertire tanto, ma in un modo molto serio, profondo, rispettoso delle regole e per tutto quanto può essere contenuto nella parola seriamente. Mi diverto seriamente un pomeriggio con Giulio Velasco. È reso possibile anche grazie al sostegno che annualmente, per cui per tutta la stagione sportiva 2019-2020, ci daranno i nostri partner. Sono partner perché effettivamente ci affiancano e ci sostengono in tutta la nostra attività. Sono qui con noi oggi, con i loro stand, sono con noi oggi qui in platea ad ascoltare il maestro. Questo per noi è un altro motivo di orgoglio, perché abbiamo trovato persone appassionate che insieme a noi condividono questo percorso. Ringraziamo innanzitutto il Comune di Modena, che ci ha dato l'opportunità di essere qui oggi al Palapanini. Ringraziamo Modena Volle, con i quali abbiamo collaborato in modo molto proficuo. Ringraziamo tutte le persone che sono qui con noi oggi e che hanno desiderato partecipare. e i nostri partner, che sono prima di tutto Avis, che con noi collaborano già da diversi anni ed è veramente un grande piacere condividere con loro queste emozioni. Grazie inoltre a Ausilia, MDC Life, Intertech, Diper Banca, Ospedale di Sassuolo e Obby & Volle che oggi ci ha omaggiato anche dei palloni che abbiamo dato il riconoscimento a Tommy Rinaldi e allo stesso Giulio Velasco. Grazie a tutti!